Il Centro funzionale d'Abruzzo, in considerazione delle previsioni meteorologiche, con la collaborazione del Centro funzionale centrale, settore meteo, del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, prevede per la giornata di domani, 13 gennaio, precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale, con nevicate da deboli a moderate, intorno agli 800 millimetri al mattino, in discesa fino a 500-700 metri nel corso del pomeriggio, soprattutto sui settori occidentali e meridionali, Marsica, Aquilano, Alto Sangro e Valle Peligna. Si prevedono inoltre venti forti con raffiche di burrasca forte. In tal senso è stato diffuso un avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile. Il fenomeno sarà dovuto al veloce transito di una perturbazione di natura atlantica che interesserà l'Italia da nord a sud, già a partire da oggi. Essendo prevista una sostenuta ventilazione da sud-est, i fenomeni saranno inizialmente piovosi per quote inferiori a 800 millimetri nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio le temperature inizieranno a scendere con decisione, portando la quota delle nevicate fino a 700-500 metri, mentre sui settori adriatici le precipitazioni saranno più deboli e sotto forma di pioggia. Il transito della perturbazione dovrebbe completarsi verso sera con un deciso miglioramento e la cessazione dei fenomeni su tutta la regione. Il generalizzato calo delle temperature potrà dare luogo a estese gelate nel corso della notte. Il centro funzionale d'Abruzzo e la protezione civile regionale provvederanno ad informare tempestivamente le autorità competenti con aggiornamenti sulle previsioni in base agli ultimi risultati della modellistica disponibile e con il supporto del settore meteo del DPC, monitorando contestualmente l'evoluzione dei fenomeni attraverso la rete regionale, in telemisura e i propri radar meteorologici. Grazie a tutti.